Un'altra voce autorevole della sanità provinciale direi anche regionale è l'ultimo dei sopravvissuti dal punto di vista dei primari a melito l'ultimo dei moicani dei primari la sua struttura operativa complessa medicina e quindi una grande esperienza sul territorio il suo punto di vista è particolarmente gradito veniamo definiti come una razza in via di estinzione e in effetti io con 27 anni di primariato sono già ancora con la vecchia legge prima della 502 innanzitutto buonasera a tutti grazie alla Presidente nazionale alla Presidente dell'Airpark grazie a voi tutti di essere presenti e grazie anche ad avermi dato l'opportunità di rincontrare in questa circostanza un carissimo e grandissimo amico un quarto di secolo circa di amicizia e i primi convegni fatti assieme sui costi della sanità risalgono a oltre 20 anni fa e penso che questo libro che è un manuale più che essere letto dovrebbe essere studiato studiato nell'università studiato anche da coloro che si accingono a ricoprire incarichi di alto livello un esempio per tutti noi abbiamo avuto come ultimo direttore generale il dottore Giacomino Brancati esimia persona Giacomino Brancati il dottore Brancati ha partecipato al primo corso vero valido di manager assieme al sottoscritto primo corso che ha fatto la università la sapienza di Roma al quale si partecipava per concorso scritto e orale per titoli d'esami a livello nazionale non i famosi corsi della Bocconi con il massimo rispetto per la Bocconi quando con 10 milioni che pagava l'ASP il diploma veniva dato corso che chi ha letto la 502 che ha cambiato soltanto una vocale dalla U USL A A ASL per cui ognuno di noi ha detto vabbè hanno cambiato una vocale non cambia niente no siamo diventati manager ma senza saperlo senza esserlo stati prima allora abbiamo fatto entrambi il corso e poi siamo stati richiamati anche per farlo per la seconda volta il corso era obbligatorio nessuno poteva essere direttore generale caro Ruben tu lo sai perfettamente se non aveva acquisito i titoli prima e a livello governativo si è detto va bene capiamo che non poteva essere già acquisito nel momento in cui li nominiamo diamo un anno di tempo per averlo questo attestato da allora io ne ho fatti altri 10 così giusto per tenermi allenato e ho capito poi però sulla mia pelle che cosa significava fare il manager e non so alla fine se quella attestato o quella per aver fatto il corso a Giacomino come lo chiamiamo noi amici sia servito a qualcosa o no nella sostanza e nella figura che forse può avere fatto a livello pubblico di gestione della sanità e io proporrei che questo libro venisse studiato più che letto perché affronta tutti gli argomenti e già dalla prima pagina noi potremmo fermarci la Calabria nel 2009 era fortemente inadempiente nel garantire l'assistenza sanitaria riferita a diversi livelli assistenza distrettuale ospedaliera prevenzione emergenza nel 2009 nel 2019 la situazione non è questa è peggiorata enormemente è alla fine ormai un indice di gradimento della sanità e di efficacia efficienza dice poi Ruben in un'altra pagina successiva è la mobilità interregionale e noi abbiamo la più alta mobilità qualcosa non quadra poi dice perché siamo arrivati a questo punto di negatività del servizio sanitario regionale e si dà delle risposte che poi lasciamo a lui io leggo queste cose per chi non ha avuto ancora l'opportunità la possibilità come il 99% delle persone di avere il libro in mano e di poterlo studiare e leggere approfonditamente poi parla della chiusura degli ospedali cosiddetti generali è vero li hanno chiusi quasi tutti ho sentito nominare qualcuno l'ospedale di Gioia d'Auro c'è qualcuno fra voi che sa cosa c'è all'ospedale di Gioia d'Auro a parte il fatto che non ce ne importa niente detto in italiano perché siamo lontani ma c'è qualcuno che sa quali sono i reparti presenti in una cosa che chiamiamo ospedale no c'è una cosa che chiamiamo ospedale poco ma sicuro l'ospedale di Oppido non esiste più lo chiamano ancora ospedale c'è una lunga degenza oggi i cittadini manifestavano sperando nell'ospedale della Piana che 20 anni fa doveva avere già la prima pietra non la metteranno mai perché hanno scoperto dei reperti archeologici e la normativa non è idonea non lo faranno mai d'accordo l'ospedale di Cittanova che era quello più recente più nuovo era un gioiellino io ci ho lavorato sono stato là anche come direttore sanitario oltre che come primario è stato il primo ad essere raso al suolo nell'ottica dell'ottica della ristrutturazione senza senso schizofrenia pura Taurianovo l'hanno chiuso Palmi anche a Palmi ha lavorato l'amico Ruben non esiste più niente e noi invece siamo convinti che resisteremo che vivremo perché geneticamente noi a Melito siamo diversi ne hanno chiusi quattro nella piana è rimasto solamente Polistena che sopravviverà a tutti probabilmente e l'ocri e qualche mese fa io sono un attento lettore del dottore Toscano scrive articoli ottimi eccellenti ha riproposto una vecchia versione nostra sempre valida dicendo la salvezza di Melito è se rientra come ospedale nella gestione dell'azienda ospedaliera come andate a finire le proposte sono per l'ocri e Polistena un altro punto che ha trattato sono le malattie croniche sono quelle che inginocchieranno la sanità italiana perché non sono soltanto croniche e la nostra sanità non è strutturata per gestirle non lo è assolutamente ma sono anche patologie che assorbono molte risorse molto risorse e sono patologie che riacutizzano tant'è che al nord le hanno gestite diversamente e noi qui e caro Ruben vedi che non basta nominarle le cose se tu parli di geriatria deve essere geriatria al nord la geriatria è geriatria al sud la geriatria è una medicina che si chiama geriatria punto paradossalmente la medicina è una geriatria l'età media da noi è intorno agli 85 anni abbiamo avuto persone di 100 102 106 quella di 106 è sopravvissuta tutta è tornata a casa guarita sana la lungodeggenza deve essere lungodeggenza la lungodeggenza esiste a opito attualmente nessuno pensa mai che ci sia che possa servire a qualcosa l'hanno tenuta in vita per un anno a Taurianova a Città Nova quando io ero primario a Taurianova non siamo riusciti da Taurianova a trasferire alcun paziente nella lungodeggenza di Città Nova perché non possono avere ricoveri possono avere solo trasferimenti come tu ben sai quindi una sanità come tu dici che deve essere incentrata anche sulle patologie croniche una problematica complessa così complessa che è il termine del termine se ne è già impossessato la medicina ma viene dall'ingegneria dall'ingegneria elettronica dai sistemi complessi dalla famosa frase può uno sbattito d'ali di una farfalla di una farfalla causare un uragano nell'Amazzonia e la risposta è sì perché il fenomeno diventa così complesso quando sono miliardi di miliardi di miliardi di farfalle che sbattono le ali da creare variazioni climatiche questo è il sistema della complessità basta già la cronicità in Italia la lunghezza della vita a inginocchiare un sistema sanitario ragioniamo per formule DRG sfido qualche medico a ricordarsi per bene che cosa significa l'acronimo e perché è stato inventato perché su quello girava tutta la rivoluzione sanitaria importata dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti d'America e l'unico rilievo che posso fare al libro di Ruben è che ancora Ruben cita l'ospedale per intensità di cure di cui si parlava al nord 10-15 anni fa che ci hanno cercato di farlo ed è fallito miseramente non ne parla più nessuno perché è facile parlare di cose che poi non esistono più la cultura della prevenzione è un altro argomento che lui ha affrontato e ha detto molto saggiamente Ruben al nord la sanità ha affrontato le problematiche che venivano soprattutto quelle della prevenzione e quella dell'anzianità in una certa maniera e noi l'ha detto come dice la sanità era diventata le aziende sanitarie erano diventate un centro di potere un centro di elezione lo dici a pagina 23 ed è vero soprattutto scritto sanità come fonte di consenso per essere precisi d'accordo quindi un altro argomento che ha affrontato è quello dei DRG e vabbè l'abbiamo già citato ma mi piace anche ricordare che ha citato per fare un esempio una differenza fra le tecnologie che servono che sono importanti entro certi limiti e la capacità di una singola persona che può essere anche superiore alla tecnologia e ha citato quello che io considero il mio maestro il professore Lanucara a Oppido Oppido aveva gli stessi strumenti che aveva Palmi che aveva Gioia Tauro e Melido e forse aveva qualcosa che ancora nemmeno il Morelli aveva però Oppido aveva Lanucara e gli altri non ce l'avevano la gente andava dalla Calabria e dalla Sicilia per trovare Lanucara e qualche volta era Lanucara che più o meno nottetempo era costretta ad andare a trovare qualcuno anche eh sì capitava anche questo l'ha citato lui poi la grande riforma a pagina 27 delle cinque aziende ospedaliere che cosa hanno fatto? Quello che si diceva prima hanno cercato una volta di accentrare una volta di decentrare per cui facendo cinque aziende ospedaliere hanno eliminato tutti gli ospedaletti periferici hanno ingolfato il centro e non hanno risolto niente adesso lottano per riaprire gli ospedali periferici perché c'è una mancanza estrema di posti letto oltre che di risorse umane ed è difficile gestire queste problematiche le ultime due o tre cose degli argomenti che ha detto di cui ha trattato Ruben dice che il 70% dei casi di corruzione ma questo è un argomento ormai superato vecchio esisteva nel passato non c'è ora dice però il 70% si verifero in campagna Calabria e Puglia e poi parla dei ricorsi ospedalieri quindi la media nazionale dei ricoveri ospedalieri inappropriata è il 21% in Calabria è il 30% quindi anche se c'è una unità operativa complessa di qualunque tipo è però poi il rapporto che è quello fondamentale sul quale ruota tutto l'asse del libro quasi tutto è il rapporto territorio ospedale o ospedale territorio io preferisco dire territorio ospedale perché perché la nostra sanità come ho avuto modo di dire qualche tempo fa e tu lo sai perfettamente è ospedalocentrica e quindi che cosa accade che dalla casa del paziente all'ospedale purtroppo non c'è niente niente di niente e questo c'è da anni c'è da anni e quindi se non si fa un qualcosa che ha un nome e cognome e che serve a qualcosa e che è gestito da qualcuno che deve fare qualcosa allora il problema è chi deve fare cosa e se è capace di farlo e là inghippa il carro che non sappiamo chi o meglio sappiamo chi deve fare cosa ma non crediamo che sia capace o quantomeno messo in grado di poter fare quello che deve fare perché non ci sono più assunzioni non c'è più turn over i medici non vengono assunti non c'è nemmeno la mobilità i concorsi non si fanno è più facile fare un ospedale perché sappiamo che si spendono 100 milioni più o meno dopodiché bisogna assumere delle persone ai quali bisogna dare uno stipendio per 30, 40, 50 anni che è il quadruplo di quanto si spende per avere fatto l'ospedale e questo non si fa tant'è che nel mio reparto e ormai è cosa risaputa perché ci sono gli ordini di servizi noi abbiamo i nostri medici vanno a tamponare le falle all'Ocri o le falle nei reparti contigui perché non c'è più personale medico e fra qualche anno non ce ne sarà più perché con le nuove leggi già il 50% dei medici che sono attualmente nel mio organico il 50-40% andrà via nei prossimi due o tre anni per raggiunti limiti di età ora non credo che Ruben con tutta la buona volontà possa avere la bacchetta magica per dare una soluzione multifattoriale e che riguarda un sistema estremamente complesso non è meno nostro perché non è nella nostra tradizione nella nostra cultura noi l'abbiamo mutuato non sapendone creare uno nuovo da una società angloamericana che è fondamentalmente privatistica e bada al DRG cioè a quanto costa una malattia tutto qui e poi la rimborsa che cosa è successo per farvi l'ultimo esempio pratico di come poi noi siamo i furbetti della sanità nell'Europa a un certo punto si è capito nelle pediatrie che l'alveolite bronchiale veniva pagata molto unità operative complesse di pediatria che non sapevano nemmeno cosa fosse che non avevano diagnosticata una nei 40 anni precedenti improvvisamente hanno avuto il 20 il 30% di alveoliti e hanno capito la faccenda ai vertici hanno mandato gli ispettori hanno detto dove è l'alveolite ci sembrava l'alveolite ma si vede che non lo era scusateci e scomparse il corso dopo lo scompenso cardiaco che una delle malattie veramente più estese era il DRG pagato rimborsato di più di agnes di agnesis related gru come si pronuncia in inglese c'è un gruppo di patologie che vengono equiparate come iso risorse cioè quante risorse hanno assorbito hanno assorbito queste risorse bene hanno assorbito molte risorse per cui noi ti rimborsiamo tutto quello che ci è stato dato improvvisamente lo scompenso è diventata la prima patologia anche in chirurgia c'è lo scompenso cardiaco perché veniva rimborsato molto così si genera un circolo vizioso che dà anche il colpo di grazia ad un sistema già di per sé complesso e fragile come sono i nostri ammalati e sono convinto che questo libro possa servire a chiarire le idee a chi se le deve chiarire non credo purtroppo se non c'è qualcos'altro oltre questo libro che il rimedio possa essere veramente efficace ed efficiente perché anche qua in questi termini sono stati usurati adoperati male l'efficacia è una cosa l'efficienza è un'altra l'efficienza significa fare per esempio un tot numero di visite o ambulatoriali in un'ora 40-50 ma se queste 40-50 visite non hanno prodotto alcun risultato perché l'ammalato non è stato nemmeno guardato come ti chiami si punta via non c'è efficacia l'efficacia è quando l'outcome il risultato è prodotto e noi stiamo correndo dietro l'efficienza correndo il rischio di fare naufragare tutto in questo deserto dove non c'è niente purtroppo mentre noi discutiamo di cose importantissime Roma e Cartagine contemporaneamente bruciano grazie grazie dottore Estelitano per le cose che ha detto per la grande umiltà che come sempre la contraddistigue le parole del dottore Estelitano mi fanno tornare in mente quella meritocrazia da noi tante volte richiamata però purtroppo mai vista come dire riconosciuta quando lui dice che chi disegna la sanità o cerca di disegnare la sanità non si preoccupa neppure di andare a parlare con un medico che quel servizio lo dirige e lo porta avanti e conosce quindi ma lo diceva anche il dottore Alberti nel suo intervento conosce vita morte e miracoli di quel servizio e tu non lo coinvolgi significa veramente che tu vuoi fare male il tuo lavoro e non riconoscere i meriti di chi questo lavoro lo sta portando avanti con onestà e con grande sacrificio allora e torniamo alla dottore Curia il quadro che emerge dagli interventi di questi due autorevoli medici che sono come dire hanno preso la parola poco fa non lascia molto spazio all'ottimismo lei è convinto che ci siano effettivamente ancora i margini perché questa sua proposta possa attecchire sì a proposito di quello che poc'anzi lei diceva sulla meritocrazia io proprio leggo solo questo nella prima pagina dedico ai miei due nipoti il libro ad Antonio Rubens e Pablo Ruben perché il merito e le competenze possano prevalere quindi credo che sia un po' il cuore del libro le competenze e il merito possano prevalere perché è evidente che se poi in medicina non prevalgono le competenze e il merito lo diceva anche prima il dottore Alberti facciamo solo chiacchiere e basta è evidente allora io ho scritto questo libro nel mese di luglio a un certo punto volevo scrivere un articolo poi piano piano la mano mi prendeva e come Vittorio Alfieri legato alla serie in 15 giorni ho buttato giù queste mie riflessioni e poi ho contattato Franco e Antonella perché perché praticamente mi ero reso conto che a un certo punto la discussione sulla sanità era diventata una discussione di caccia all'uomo cioè nel senso che tutta la colpa è di scura togliamo scura mettiamo chiaro e abbiamo risolto la questione la sanità come diceva il carissimo Elio che ringrazio per le belle parole la sanità è un sistema estremamente complesso e come tale praticamente bisogna affrontarlo in punta di piedi con modestia perché tra l'altro io lo ripeto continuamente nel mio libro la sanità cambia continuamente io cito quando superai la clinica medica a Pavia col professore Storti che non era Storti era l'ematologo quando voi andate in laboratorio d'analisi la formuletta leucociti quanti eccetera eccetera l'ha fatta Storti quindi non era un qualsiasi Storti a un certo punto ci disse a noi che abbiamo superato finalmente questa clinica medica ci disse ci davano in lei e ci disse molto di ciò che voi avete appreso è stato superato io allora mi sentivo un po' offeso perché per sei anni avevo sudato sui libri gli esami le cose e diceva ma come tu mi dici questo io sto per dittare medico mi sentivo un piccolo padre eterno poi capì invece perché è praticamente evidente e questa è la bellezza della 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 sanità che la sanità con la sua ricerca in tutti i campi porta ad una continua innovazione sia innovazione nel campo clinico faccio anche un esempio l'ulcera gastrica appena laureato entrando in sala operatoria la maggior parte degli interventi era la resezione gastrica perché c'era l'ulcera gastrica ma tutti quanti sapevamo allora è una malattia psicosomatica la gente si arrabbia qua e là e poi vanno a scoprire che invece era un piccolo batterio che produceva tutto quanto per cui oggi nelle sale operatorie di resezioni gastriche non se ne fanno più ma io mi ero laureato con quella formazione praticamente dell'ulcera gastrica come cambia per cui per malattie per cui si moriva in pochi mesi oggi c'è una cronicizzazione e quindi questo significa i costi che aumentano la Calabria è la regione che ha il più alto numero il 32% praticamente di malati con due patologie croniche la Calabria è la regione che ha l'8,5% di prevalenza di diabetici la Calabria è la regione che insieme alla Liguria è quella che ha il numero di artriti e di artrosi la Calabria è la regione che ha la buona salute aspettativa di buona salute non aspettativa di vita di buona salute appunto ci dicono i dati 52 anni la provincia di Bolzano 69 quindi un calabrese sta bene fino a 52 anni poi inizia ad ammalarsi a Bolzano 69 anni allora noi dobbiamo fronteggiare questo cioè non si è capito nel corso di quei famosi che cambiava tutta la sanità praticamente che le malattie croniche iniziavano a incrementarsi per cui noi siamo rimasti fermi ad una sola riforma sanitaria che è del 2004 15 anni fa 15 anni che sono Elio in sanità un'eternità sono praticamente perché abbiamo fatto una riformina la chiamo così io una notte l'accorpamento nel 2007 e dico anche contro l'assessore Lomoro con il disappunto io ero presente altro che disappunto era praticamente ma non abbiamo fatto niente la regione Lombardia la regione Veneto due regioni dove la sanità mi sembra che vada bene negli ultimi nove anni hanno fatto due riforme ognuna di loro due riforme negli ultimi nove anni e noi ci hanno mandato i commissari che fanno il compitino che fanno i piani operativi biennali non servono a niente i piani operativi biennali è come se tu vuoi cucire un vestito su ormai un tessuto che è completamente lacerato puoi farci al massimo un rattoppo è questo che non si è capito la sanità in Calabria sta morendo per che cosa? per mancanza di riforma ma perché la Lombardia e il Veneto hanno fatto queste riforme in questi ultimi anni? perché si sono accorti gli sta avvenendo addosso tutta la cronicizzazione per cui che cosa hanno fatto? praticamente hanno ridotto i budget del 20% della clinica del privato i quali sono organizzati poi perché hanno mandato giù nel sud i loro medici e se li portano lì perché gli hanno dato l'extra budget su quello che loro portano ok? non so se è chiara la cosa infatti sbucano a Bovalino a Canicattì vedete quello è dell'Humanitas quell'altro è di quell'altro che fanno? perché gli hanno ridotto del 20% il budget della regione Lombardia perché ha spostato su che cosa? ha spostato sul diciamo l'intermedio cioè praticamente sulle strutture intermedie cioè la regione Lombardia spende 100 milioni di euro 100 milioni di euro praticamente per l'assistenza domiciliare la regione Lombardia con quei 100 milioni di euro dà lavoro a 200 erogatori privati no? in Veneto in Adi praticamente si assistono 7,2 ultra 65 anni su 100 anziani in Calabria 1,4 cioè la sanità è anche lavoro questo bisogna capirlo la sanità è lavoro è lavoro di professioni qualificate la sanità io vi dico una cosa nessuno mi ha smentito ancora perché io l'ho detto l'ho messo su Twitter eccetera eccetera in 10 anni la regione Calabria ha avuto l'opportunità di un miliardo 600 milioni di euro per l'edilizia sanitaria un miliardo 600 milioni di euro di questi soldi non abbiamo speso quasi nulla le case della salute che io metto nel libro e che sulle case della salute io le dico che cosa sono e insisto molto e mettendo tutto dentro così almeno qualche amministratore si arriva a leggere e dice cosa è una casa della salute non è un poliambulatorio la casa della salute assolutamente la casa della salute lì ci sono i cosiddetti posti letto territoriali per tutta una serie di patologie nuove croniche il disturbo del comportamento alimentare dei nostri giovani dove lo mettiamo vogliamo capire che c'è questo oppure un malattino ci svegliamo no e allora nelle case della salute a noi l'unione europea ci aveva dato nel 2009 160 milioni di euro oggi noi impegniamo dopo tutti questi anni per costruire questa casa della salute 49 milioni di euro perché 60 milioni se le è riprese indietro l'unione europea ed è una vergogna questa una vergogna questa e ringraziamo che noi e io lo ringrazio noi qua abbiamo abbiamo un grande calabrese che anche è un cittadino di merito portosalvo appunto il Lucibello Lucibello 12 anni fa voleva fare la seconda Budrio in Calabria alla Mezzia gli anni impegnano in tutti i modi possibili immaginabili e sapete perché? è perché il sindaco era di sinistra e il presidente era di destra e allora praticamente nessuno dei due perché il sindaco la Mezzia stiamo parlando no cioè queste sono le guerre di pollaio cioè e allora le guerre di pollaio sono voglio dire cioè e quindi noi lì veniva una seconda Budrio cioè una riabilitazione incredibile tutta una ricerca ormai ormai la fanno al nord la mano praticamente bionica eccetera eccetera non c'è lì lì c'è lì lui la voleva fare e qui la voleva fare praticamente queste sono queste le cose che sono e allora è evidente che noi dobbiamo sono ottimista o non sono ottimista io essere ottimisti può significare essere anche faciloni no però io dico una cosa siccome io non prometto la luna in questo mio libro come giustamente lei ha detto io dico noi abbiamo e qui parlo con i sindaci noi abbiamo dei modelli funzionali di cui darò un attimo abbiamo dei fondi che sono sempre fuori del fondo sanitario regionale ok sono soldi che vengono dati si chiamano obiettivi di piano che annualmente vengono dati in rapporto al numero degli abitanti la Calabria purtroppo ha perduto quasi 90.000 abitanti quindi prima ne prendeva 54 milioni di euro l'anno ora l'ultimo ne ha presi 47 milioni e questi sono fondi che sono per attività territoriali inizialmente sperimentali poi se vanno bene si applicano una di queste qual è un attimo una battuta torno alle case della salute mentre noi dovevamo costruire queste case della salute l'Emilia Romagna nel 2009 fino a oggi sapete quanta ne ha fatte di case della salute dite un numero chiedemi un numero ancora alzate di più ancora 108 la rivoluzione in Emilia Romagna è partita da 24 poi vista che andavano bene 48 ora sono 108 le case della salute in Emilia Romagna praticamente 108 case della salute qui noi ne avevamo programmate 20 è successa la fine del mondo ancora non ce n'è nessuna si può dire da questo punto di vista stavo dicendo quindi allora torno il territorio guardate non è una mia fissazione io voglio io per salvare l'ospedale devo fare funzionare il territorio al dottore Stilitrano non gli può arrivare la vecchietta di 106 anni il dottore Stilitrano deve fare cose più scusami più serie se permetti più di ricerca voglio dire no e allora ci sono l'unità complesse di cure primaria di cui io parlo nel mio libro cosa sono queste unità complesse non le invento io c'è un contratto nazionale di lavoro dei medici di medicina generale dei medici di continuità assistenziale sarebbero i medici di guardia medica sono strutture praticamente con bacini di 60 mila da 30-60 mila abitanti a secondo l'orografia del territorio dove lì ci sono delle equip territoriali medici medici di medicina generale specialisti ambulatoriali infermieri di comunità segretari assistenti sociali che praticamente sono aperte H24 si possono fare presso un ambulatorio di un medico dove poi tutti i medici ci lavorano anche la notte o possono essere dati da parte del comune il comune ha una sua struttura e lo fanno in quel comune praticamente queste unità complesse di cure primaria dove sono pagate non ripeto non con il fondo sanitario regionale quindi non vi possono dire non ci sono i soldi perché i soldi ci sono io li dettaglio dove sono i soldi in quale capitolo sono i soldi praticamente non è semplice farle ci sono resistenze anche da parte dei medici di medicina generale guardate non è semplice però sono importanti io quando ho scritto il libro ho pensato proprio a che cosa ho pensato ho pensato all'area all'area del Melitese ho pensato a Nardò di Pace ho pensato a Civita cioè tutte queste zone non è praticamente perché la Calabria la Calabria è una regione montuosa stiamo attenti noi con i nostri occhiali io vi varreggio sono marinaio no e la programmazione sanitaria deve partire dalla dalla sua orografia la Calabria lo dice la Treccani se vi andate a prendere la Treccani il 2018 Calabria ci è scritto no regione prevalentemente montuosa è la regione che ha il maggior numero di patrimonio boschivo di tutte le regioni del sud lo dice la Treccani questo no è la regione che ha il più alto numero di frazioni hanno fatto l'accorpamento hanno fatto ora un unico paese nella zona della Sila praticamente erano cinque piccoli paesi ora hanno diecimila abitanti si chiama del Manco appunto Pedace Serra Pedace eccetera eccetera cinque paesini insieme hanno fatto diecimila abitanti ora e c'erano trenta frazioni ma io voglio fare vivere la Calabria allora che devo fare devo fare in modo tale che questi nostri paesi questi nostri borghi vivano che abbiano i servizi che abbiano le strade che abbiano la sanità io sono io sono direggio Calabria io se sto male scappo in ospedale impiego circa cinque sei minuti per scappare in ospedale ma queste persone che vivono in queste zone pedemontane no come le tuteliamo noi e questo è il punto allora è fondamentale che vi siano queste strutture territoriali prima di tutto fondamentale e su questo dobbiamo giocarci la partita i contratti ci sono ora l'hanno firmato ad agosto finalmente tra i medici di medicina generale e il commissario scura allora praticamente i fondi ci sono allora mettiamoci sindaci si mettono intorno a un tavolo per le loro per i loro bacini no e dicono ok allora vediamo in questo bacino qui di 30.000 abitanti dove lo vogliamo fare in modo tale che funzioni questa unità complessa di cure primarie dove una volta alla settimana ci può andare lo specialista ambulatoriale senza che il cittadino scenda per farsi dell'esame eccetera eccetera e via dicendo no in tutto questo ci aiuta anche tutto quello che è la telemedicina ormai da questo punto di vista ma e quindi iniziamo a ragionare su questo ecco io non è che faccio la rivoluzione ma dico abbiamo soldi contratto facciamo subito queste cose e poi un'altra cosa io dico noi dobbiamo fare le aziende sanitarie ospedaliere ASO e le aziende sanitarie territoriali AST io sono stato perché secondo me solo i cretini non cambiano idea io all'inizio della mia vita diciamo professionale ero innamorato tra il dipartimento trasmurale rapporto tra ospedale e territorio eccetera eccetera queste cose qua no noi dobbiamo in questo momento storico ora perché poi la sanità cambia possiamo fare un'altra riforma distanza di anni noi dobbiamo fare le aziende sanitarie e territoriali che si occupino solo di territorio il direttore generale quando mette quando si siede non deve essere inseguito dal problema dell'ospedale eccetera eccetera il direttore generale deve dire allora io come faccio lavorare bene i miei specialisti ambulatoriali come faccio lavorare bene i miei medici medicina generali come faccio la veterinaria per bene come faccio la prevenzione come faccio gli screening praticamente deve fare questo in questo momento il direttore generale purtroppo molti non hanno questa cultura io ci ho lavorato anche con direttori generali di assessorati no o con commissari ci ho lavorato cioè erano commissari che avevano fatto solo ospedale veniva da Roma ma il dottore Delia voglio dire di territorio non conoscevano no e quindi noi questo dobbiamo fare in primo luogo fare in modo tale che il territorio funzioni riportare al centro dell'attività il medico di medicina generale in rapporto voglio dire al medico chiamato di guardia medica di continuità assistenziale che oggi come oggi poverino e senza strumenti che oggi come oggi lui cura il sintomo non vede la persona cura il sintomo dice quello che ha un dolore non la persona se tu lo metti dentro l'equip il medico di continuità assistenziale è uno di loro che sa tutto e questo dobbiamo fare certo dobbiamo farla tutti assieme però e questo è importante aziende ospedaliere le aziende ospedaliere io sono perché e l'ho scritto praticamente perché vi siano l'azienda sanitaria ospedaliera della provincia di Reggio Calabria tutti gli ospedali dentro praticamente ed anche l'ospedalità privata perché anche l'ospedalità privata perché bisogna calcolare quello che sono i bisogni praticamente questo che significa questo significa praticamente che io non lascio morire quell'ospedale ma ci investo posso fare anche ospedali monospecialistici direi la scelta può essere questa in base al fatto che tu dici lì c'è una bella esperienza allora io investo lì e faccio una cosa per dire io questo non lo dico perché poi ci deve essere un dibattito noi in questo momento dobbiamo fare una cosa e questo è il mio obiettivo dottore fare in modo tale che si elevi un dibattito culturale guardate state attenti non cadete in una trappola anche a lei glielo dico signor sindaco stiamo attenti che qui c'è una specie di distrazione di massa perché ci vogliono dire che siamo tutti ladri e che quindi devono mandare dei generali la sanità non si cura con i carabinieri in assa hanno un loro compito importante la sanità si deve curare attraverso un forte dibattito culturale tra tutti i sindaci gli amministratori i medici tutti quanti e i farmacisti oggi si parla tanto appunto di questa farmacia di comunità no hanno fatto un convegno nazionale i farmacisti praticamente su questo interessantissimo voglio dire allora ecco io insisto e poi mi taccio come si vuol dire e allora io in questo momento siccome noi abbiamo bisogno subito di attivarci no noi dobbiamo puntare molto quelli che sono i percorsi di continuità assistenziale ok costruire i percorsi di continuità assistenziale questo possiamo farlo da subito praticamente io andrò sulla piana loro poverini aspettano l'ospedale è diventato è diventato un deserto la piana io ho detto loro guardate bene che vada no io sono ottimista lui dice hanno trovato i reperti non si fa più niente bene che vada là ci vogliono almeno otto anni e in otto anni che fate voi morite tutti quanti allora dobbiamo puntare su quello che è praticamente il territorio questo è la cosa importante da subito e poi quest'altra riforma che sarà a mio parere questa delle aziende sanità ospedaliere perché guardate qui chiudo il mio ragionare come all'inizio l'ho detto è importante formarsi e aggiornarsi formarsi e aggiornarsi da parte di tutti gli operatori quando dico tutti gli operatori non soltanto dico il personale medico di tutti gli operatori perché la sanità è affascinante perché la sanità rimane sempre giovane che cambia sempre la sanità rimane sempre una bella donna giovane praticamente non che ci siano anche belle donne una certa età scusate no e però è l'aggiornamento importante questa è la cosa fondamentale che bisogna fare e su questo potremmo scrivere delle pagine brutte sull'aggiornamento su come questi fondi vengono spesi male praticamente io quando ho fatto il direttore generale a Vibo la prima cosa che ho fatto è stata una siccome c'è un monte di soldini che hanno l'invenzione sindacale ho detto scusate un momento se permettete io la formazione la faccio in tipo anglosassone cioè nel senso che qui non si fa l'infonato sentinella non si faceva Vibo per il tumore della mammella allora gli disse al primario chirurgo trovami un bravo e giovane chirurgo tuo non un anziano uno giovane ok lo mando qui lo faccio stare due mesi vi deve apprendere tutto torna e gli insegna questo agli altri gli dissi un po' ci fu inizialmente maretta qualche cosino ho dovuto lasciare evidente perché la mediazione bisogna farla però il taglio era questo voglio dire no che i soldi ci sono della formazione l'aggiornamento e bisogna fare in modo tale che su questo vengano utilizzati è bene scusate se l'abbiamo ascoltata veramente volentieri volevo farle un'ultima domanda così poi magari la lasceremo a firmare gli autografi sui libri che i nostri gentili ospiti hanno acquistato però prima di farle quest'ultima domanda vorrei anche coinvolgere Franco Arcidiaco il dottore Curia diceva prima una scelta un po' azzardata quella di puntare su un libro che tratta una materia così ostica tra l'altro devo dire che è stato molto opportuno l'invito da parte degli amici di Larry Parker ringrazio per questo Irene e Lucia perché parlare di criticità della sanità a Melito Portosalvo è come parlare di corda in casa dell'impiccato quindi io conosco bene tra l'altro le problematiche dell'ospedale di Melito perché vivo buona parte dell'anno tra Marina di San Lorenzo San Fantino San Lorenzo Superiore che sono le mie zone di provenienza e quindi so che cosa significa per l'entroterra e per gli abitanti dell'ospedale di Melito Portosalvo ho conosciuto pure i momenti belli dell'ospedale di Melito Portosalvo quando c'era il punto nascita che era diventato un'eccellenza dell'intera regione tant'è vero che c'è nato tra gli altri tra i tanti altri quando addirittura al comune di Melito avevano finito i moduli per poter registrare le nascite e io quando è nato mio figlio qui ho avuto difficoltà a registrarlo perché proprio non avevano più la modulistica per cui immaginate come io conosca bene questo per cui quando Ruben al quale ci lega tra l'altro una comune militanza di tanti anni tanto è vero che la presentazione di questo libro è un affare di militanza perché Ruben sta girando tutta la Calabria e devo dire stasera è stato una delle volte in cui veramente il dibattito è stato e questo grazie anche ai relatori è stato veramente più elevato ma io vi volevo dare un ulteriore stimolo anche se siamo alla fine della serata perché noi proprio in questa settimana che è passata abbiamo esultato a Reggio perché finalmente è giunta a conclusione l'iter procedurale per la gara della costruzione del grande ospedale metropolitano allora noi parliamo di politica abbiamo detto che i politici perché alla fine poi in Italia lo sappiamo come facciamo buttiamo il bambino con l'acqua sporca quindi ha mala politica però francamente io mi dico che fin quando noi non saremo capaci di liberare il sistema Italia perché di quello si tratta dei laccioli e dei lacci e dei laccioli burocratici non ne usciremo mai più allora questa settimana Rubens è stato assegnato e tu lo sai bene i lavori del grande ospedale metropolitano che è quello per intenderci che deve andare a sostituire gli ospedali riuniti e io come imprenditore in questo caso ho tremato quando ho sentito che l'impresa che se l'ha giudicato ha fatto un ribasso del 48% allora io mi domando che qualità di lavoro noi ci ritroveremo con una roba del genere in questi giorni si parla tanto di riforma del codice degli appalti spero tanto che veramente si ponga mano a questo discorso perché veramente caro Pino che tu sei tra l'altro un giornalista attento a queste cose se mi devi dire come si fa a concepire un'idea del genere basta grazie di un'estensione di 70 di un'estensione di 70.000 metri quadrati di superficie una cosa enorme che se fatta bene se veramente fatta bene giova all'economia non solo della città metropolitana non solo del territorio contiguo ma probabilmente si estenda tutta la Calabria perché noi sappiamo quale infrastrutture quale attività economiche quale attività imprenditoriali ci siano intorno alla vita di un ospedale e quindi è una grande opportunità che deve essere utilizzata bene grazie dottore allora l'ultima domanda molto semplice volevo chiederle gli elementi di debolezza e gli elementi di forza della sua proposta ovvero per elementi di debolezza possiamo anche intendere una classe politica che dovrebbe programmare che non ci sente da questo orecchio guardi io concludo il mio libro parlando di comunità competente la cito più volte però alla fine dedico la parte finale cioè io io dico noi dobbiamo ecco perché io sto facendo un po' una specie di banditore dico io si ricorda nei paesi si andava col tamburo e si bandiva o si bandiava praticamente e io sto facendo un po' così sono stato Cosenza Vimbo Catanzaro Bovalino Locri via dicendo eccetera eccetera no cioè perché io mi rivolgo a una comunità competente io immagino praticamente questa comunità competente quelle persone sensibili che si vogliono praticamente mettere in campo per fare in modo tale che alla fine si arrivi ad una proposta no dal basso e questa proposta venga poi consegnata a chi di competenza cioè nel senso consegnata al governatore alla struttura commissariale voglio dire e quindi una proposta che quindi il mio più che altro come dire avrei dovuto fare se no un libro di 500 pagine voglio dire no perché gli argomenti devono essere poi sviluppati una serie di di momenti che sono molto importanti e quindi raccogliere la mia idea è questa cioè a fine giugno magari fare un incontro alla mezzia raccogliendo praticamente una serie di proposte e fare in modo tale che poi queste proposte vengono date a chi a chi di competenza con un confronto perché il il commissario scura quando la giunta regionale ha fatto quella proposta non è entrato nel merito della proposta ha detto voi non potete farla la proposta ci sono io io ho fatto il piano operativo voi non potete farla un momento come non possiamo farla noi siamo una democrazia noi le proposte le possiamo fare tu devi entrare nel merito e ci devi dire a me questa proposta non va la voglio migliorare così ma non puoi essere tracotante e dire siccome io sono il commissario tu non puoi fare questo è il futuro dei nostri i nostri figli i nostri anziani voglio dire ecco quindi allora che io sto girando per fare in modo tale che poi si raccolga no questa idea no si migliori e via dicendo e poi si faccia questa ripeto sfida culturale noi non possiamo come calabresi consegnarci le mani dell'uomo solo al comando qualsiasi esso sia assolutamente e quest'altra balla state attenti io ho sentito è venuto il sottosegretario qui Sibilia si chiamava e ha detto che ci mandava 15 tecnici ma l'agenas c'è già da 10 anni qui sono loro i tecnici l'agenas praticamente io ci ho lavorato a gomito con alcuni di questi a un certo punto un giorno mentre si ci interpellavano e dissero allora noi avevano la cartina davanti e dissero l'ospedale di Trebisacce lo possiamo chiudere perché abbiamo San Giovanni in fiore è vicino io gli dissi era svedese questa persona che lavora all'agenas e io gli dissi guardi che per arrivare in macchina ci vogliono quasi due ore se non si dà a scingannare dalla cartina voglio dire no cioè allora quindi quello che dico io è importante è che vi sia un'unità al di là degli schiacamenti politici perché la sanità è tripartizan a me quando i 5 stelle mi hanno chiamato un amico mio io gli ho dato una mano in quella proposta che loro hanno poi presentato io non ho idee 5 stelle le mie idee me le tengo per me voglio dire ma cioè perché noi dobbiamo fare in modo tale che allora noi abbiamo questa realtà l'ospedale di Merito Portosalvo l'ospedale di Merito Portosalvo tra l'altro quando ho avuto bisogno la mia famiglia ha avuto bisogno siamo venuti a Merito Portosalvo noi a ricoverarci negli anni voglio dire lo stesso io cito l'ospedale di Oppido no dove c'era il professore Lanucara dove tutti andavano al professore Lanucara le cose sono cambiate perché allora c'era soltanto la scienza del medico no e poi c'era la radiologia che era quella lì faceva il clismo opaco la lastra il laboratorio era piccolo piccolo io ho lavorato all'ospedale di Palmi dottore e c'era quel laboratorio mi ricordo c'era il dottore De Maio molto bravo no oggi un laboratorio è una cosa ben diversa oggi si fanno dosaggi degli antibiotici si fanno ricerche quindi è evidente che quel passato ci deve essere da stimolo ma non possiamo tornare indietro dal punto di vista solo attraverso una riforma possiamo noi in cui tutta praticamente a questo punto le competenze la scienza l'aggiornamento la formazione la tecnologia viene gestita all'interno di questi dipartimenti di cui io parlo in cui c'è questo forte rapporto non c'è il medico il chirurgo di serie B perché non ha la tecnologia in quell'ospedale il chirurgo di serie A che sta no è un dipartimento dove lì il direttore del dipartimento ha in mano tutta la responsabilità e se non va si cambia il direttore del dipartimento quello è il punto fondamentale no questa è allora io quindi sono venuto qui a Melito con un estremo piacere voglio dire perché so che c'è una comunità competente che può fare può fare fa parte di questa carovana lei è comunità competente che è un giornalista voglio dire l'associazione gli operatori i medici i sindaci che ci sono qua i singoli cittadini che stanno ascoltando no io ho messo una mia mail no e dico a tutti quanti ok leggete il libro e date dei suggerimenti che poi ci si incontrerà voglio dire perché ripeto noi non possiamo lasciare il nostro destino nelle mani di un uomo solo al comando è necessario che tutti ci ascoltiamo ancora dal bar lo diceva calabrese vuole essere parlato e dobbiamo noi parlarci su questo io vi ringrazio che sono qui le otto non sono le sette e siete qui voglio dire no perché vuol dire che la cosa vi interessa questo è importante e quando e quando sorgono i comitati perché i comitati sono sorti dappertutto in Calabria per la tutela degli ospedali voglio dire non bisogna avere la puzza al naso quel comitato nasce da che cosa da giuste paure che la gente ha la gente ti dice io voglio essere tutelata il rapporto alla salute allora tu devi fare in modo tale che questo diciamo possa avvenire grazie dottore Curia penso che possiamo andare alla conclusione solamente per dire che sono grato per tutti insieme la comunità dobbiamo riformarci e andare avanti e non possiamo guardare mi scuso mi scuso a quel modello precedente però nell'andare avanti non si può andare avanti con la proposta di legge che ha fatto la giusta è stato detto anche questo l'ho detto chiaramente ha perfettamente ragione se lei legge il mio libro lo troverà approfondito perfetto grazie lei nel mio libro lo troverà allora volevo concludere dicendo sono veramente contento credo che tutti quanti questa sera torneremo a casa più ricchi di quanto quando siamo arrivati soprattutto per i contributi qualificati del dottore Alberti del dottore Stelitano anche di Franco Arcidiaco per la sua presenza e vicinanza a merito e per questo splendido dono che ci ha fatto il dottore Curia che leggerete immagino con la stessa attenzione con cui l'ho letto io perché troverete tante cose interessanti in bocca al lupo speriamo che da questo possa veramente nascere qualcosa di interessante in bocca al lupo a tutti noi ringrazio la presidente tenacissima dell'IPARC Lucia Mangiaruca per questa ennesima occasione che ci ha regalato buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti